In alto ciasia mi disse, cara sembra un circo, vuole racconto di parte mia di cosa, di verga, io ero un altro scrittore, io ero un discepolo di verga in alto ciasia, con il verismo, mi leggi e riassunte meravigliose, critiche fatte di molte belle, io ero un cilinecchio, io non fissi a memoria, e fissi un anno di studi e non sapevo che era a memoria. Poi mi disse, ma quando si preparano la pedagogia e cose, che c'è di avere io, dopo ho imparato l'olte lettore, mi dice, ora vai se lo vissi con l'olte lettore, l'olte lettore mi dice, non ci piacerebbe come ci risultava io, quindi io ero un sorzione che ci risultava io, ma il risultava, ma quando si insegnato che era anche il quitario, l'olte pensava io, che è che l'olte pensava io, quindi le pensava io, e all'olte pensava io. Il risultava, dopo le risultava io, e allora vi hanno detto che ci ci risultava io, non ci risultava io, non sapevo la mia, io non mi ricorda direi qui a comincia, quando io mi accettavo, ho chiesto, vuole parlare, ho fatto un po' di verga, mi dice, vediamo ora tu di verga, chi può suggerire? ma di verga, io a Fieri ci chiede, perché ci coperemo qui? ma io mi presento a Fieri ci chiede, guarda che cosa? uno su tagliava, dice, ma che dice? mi dice perché mi accettavo non ho been o no, e poi le ho dato, erano bene, veramente era una cая della un compito del i Cao Fabio e di Cucundà, di Cucundà, di Cucundà era un maniscritto di Cucundà , a dire ci sarà non consuma a mia, non bilhava io ci dice? quedo, che così ci pensi ci pensi, ci pensi che ti pensi a mia, un manoscritto era presto anche qua visto che era già una cosa ma lui ne parlava questo parlava di questa sua capacità letteraria di questa non parlava dei studi che faceva non era tipo eloquente di parlare tante cose se lo discorso ci guardava che era serio e lo assumeva la serietà che aveva perché non era in Giacciaruno il mato non c'era però una persona che piaceva a tutti e anche tante che se quattro piaceva a Fabri e su era piaceva ma per starci vicino ma non si scomponeva con lui la figlia dice ma perché avessi tornato già a passare a casa la chiamava a vedere quale era un posto già in seguito ma sì e tu se la vedete con lui è un bambino di un bambino passato quando ero amici insomma di studio più da Travers quando ero andato amici per gli studi che avete fatto? E io donato? Donato andato amici perché la carriera dovuta pensare al circo. Ah non è che tu andava a riacciare? La amici è stato deluso quando ero andato amici e ci fu già uscito e lui si portava a trecutare e avevo al giro per ragione da parte di sposo e la casa porta e si vede loro a vedere se è necessario e quando vuoto come si vuote ora di pubblici perduto marco come pigliare molto però non hanno avuto un grande però non ha avuto un grande siamo un migliaio di voto quando fa let prima prima c'è giusto ma ne resta e buono consigliere comunale a palermo e lui aveva una cosa e poi tanno tanta sala che ha avuto la gente era agnostica e che lo conosciva tanto perché può studiare ognuno era manegliato con il suo battito non c'erano affari chissà se c'erano anche la qualità del cane c'era la pannella che mi chiamava quando aveva già visto la pannella qua la pannella io lo pubblicavo in questi giorni giorni salvo si incontrava con la pannella casualmente si incontrava il giorno di salvo con la pannella a pannella io l'ho accettato un job bar e si facevano una foto e lui ci parlava della camoto di salice si ricordava la campagna non è qualche grande la pannella al potere del presente consiglio avviene la voce tutto certo verso uno del raga al moto che a scrivere libri ea questa notorietà non è una cosa la camoto però lui riusciva ad avere una autorità europea e anche lui stesso non era secondo me c'è che aveva tutta questa importanza non ha malvito si il valore non l'ebbe quadra che ha avuto perché c'è la fotografia che aveva 12 anni ha imposto nell'82 il viso convegno alla teatro e si capava il primo intervento io ero presso il primo intervento 80 milioni non sai ce l'ho portata per aggiustare ma come era il nostro e che c'è la foto la terza ma come ne ha detto la panna mi sciva del caso un punto la dici ma poi del tuo teatro e che poter aggiustare il suo fatto almeno allora e se tu non ti mangiare a procurare se l'incarico sapete che ci ha detto il suo intervento per l'incarico da morire da quant'anni che muore un anno ma ancora no 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 l'incarico che c'è di apposare da sbottare a dove sta la vetrarina a te posso dare adesso giro il nome dell'animondo dell'animondo che era architetto e ha detto per aggiungare le fatte poi quando hanno dato l'incarico ha chiesto il luogo poi c'era questo fatto qualche già aveva avuto un incarico per aggiustare e il vettore doveva portare a che dovevo fare voglio dire e io però il merito è stato lui per mettere la nuova tutto perché su un'area che è andato ciasi che arriva a filiare proprio a possibili di pietro allora l'assessore regionale che era poi era aspetto si chiamava rispettorato da veniva no l'assessore che ha finanziato l'obreato aspetto la regione c'era tanto il suo socialista come si chiamava che ha testo era anche si chiamava quello di Venezia e quindi già avete questo finanziamento ho detto l'incarico secondo l'indicazione a Oscar si potrebbe fare un teatro a messa al no sennò moriva nel commentamento si è morto all'interno forse è il comandante forse è il comandante allo circo con le svegie stavate nella stessura si stavano per la stessura e allora ho visto belle pesche a Macugliel signora ora ci faccio con la lei ma io non ho la pianta e si accoglie le pesche e non lo va bene e annuncia la sovrintendente dell'agrigento e il franzo che si ha pegato le pesche che mi debba ma sopia tu perché non funziona ancora perché c'è non funziona nè non funziona nè infatti c'è stato il violetto c'è c'è la sovrintendenza le stesse bobbieri lo vogliono capire che è una struttura antica che è una struttura antica che è una struttura che è una struttura di sicurezza di campagna prima c'era il corredore centrale più pericoloso ma era anche più bello come apparebbero diversi teatri di chissi antichi che c'erano non sa c'era un bel figlio delle cose quindi allora sarebbero madorasi e qui su lì erano le seggi e qui su lì non sa perché vuole fare mille poste e qui su lì la seggi la faccia c'era la c'era la c'era la vittima il giardio che la del lecce cristiana non sa quanto era la grata che tutto non vieno che non vieno 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 non faccio un ceco se ne mangiare pesato giù la san bruciava e facciamo domani